La Fondazione Humanitaria del Fatto Quotidiano è partita da circa sei mesi, quindi è una realtà che opera nel terzo settore da poco, diciamo pure da molto poco, però ha avuto fin da subito l'obiettivo quello di coinvolgere intorno ai progetti che mettiamo in piedi e la comunità di letture che ci segue da sempre ci ha sempre supportato per l'informazione. Abbiamo ovviamente l'obiettivo di realizzare progetti grazie anche al loro aiuto. La cosa importante è confermare sempre la fiducia sul nostro marchio, quindi noi per ogni progetto continuiamo a giornare perché è giusto che chi dona sappia esattamente dove vanno queste raccolte fondi e sappia soprattutto che quello che annunciamo e diciamo poi si realizza nei fatti.